Torna con un calendario fitto di appuntamenti la decima edizione di Poeté, il salotto letterario diretto da Claudio Finelli che si terrà da ottobre a maggio al Chiaia Hotel des Charmes. In programma 24 incontri pomeridiani, tutti ad ingresso gratuito con inizio alle 18 e 30 che attraversano tematiche e generi diversi con un'attenzione particolare alle discriminazioni fondate su identità di genere e orientamento sessuale. Il tema quest'anno è sicuramente il decennale, sono dieci anni di una manifestazione, credo tra le più longeve tra le manifestazioni letterarie in Italia dedicate alla lotta a tutte le discriminazioni chiaramente a partire dalle discriminazioni fondate su orientamento sessuale e identità di genere. Il claim letture e libertà perché sono sicuramente le due leve forti di questa manifestazione attraverso i libri, scardinare l'immaginario collettivo, creare spazi di condivisione, partecipazione e libertà. Nel corso della rassegna saranno presentati libri e autori che raccontano storie dimenticate tenute ai margini con l'obiettivo di mettere al centro i valori dell'amore, della solidarietà e dell'inclusione. Vorrei che poi te, e glielo auguro veramente di cuore, diventi un progetto permanente per la città di Napoli e diventi anche un presidio di cultura, di controinformazione e che soprattutto si allarghi in altri luoghi perché è necessario veramente diffondere una cultura della convivenza contro ogni forma di discriminazione, contro la transfobia, contro l'omofobia. Non sono rischi che appartengono al passato, sono rischi che ritornano e noi stiamo attraversando un'ondata di pregiudizi e di discriminazioni che rendono l'esperienza di Poetè ancora più significativa e importante. Poetè prende il via oggi con le cose di prima di Edoardo Savarese. Gli incontri proseguono solitamente il giovedì e si concluderanno il 17 maggio con una mostra evento di Vito Fusco, allestita presso la Casina Pompeiana in Villa Comunale, grazie al sostegno dell'assessorato alla cultura e turismo del Comune. Parlare il linguaggio e il lessico della poesia, dell'arma fondamentale, della gentilezza, della passione, dell'emozione contro un mondo in cui tende tutto a rinchiudersi, in cui le persone, le comunità tendono a rinchiudersi, a blindarsi, mostrando in ciò segni di paura, di sconfitta. Qui c'è un grande desiderio dell'altro e un grande desiderio dell'altrove, quindi una grande apertura, un'apertura di orizzonte e soprattutto con al centro la cosa più importante che è l'amore.